Raga, sono Femme Maruli e siamo al terzo video di oggi, farò la spiegazione di un gattone animato che mi vedevo nell'infanzia Ed è stato Olly e Benji Che mi vede ancora oggi Olly e Benji è stato un bel cartone e se lo vede anche mia mamma Perché in Olly e Benji ho sempre amato come giocatore Olly più che Benji Poi vabbò c'è anche qualche giocatore che cosa E mi fai finì Tra cui Gemelli Derrick, Duron Cuyun che la tengo nel... Vabbò Poi Mark Landers Il portiere della Muppet E' il capitano della Muppet, non il portiere Vaffanculo Poi chi altro ci sta? Benji Vabbò Non li metto in cosa Fa parte della New Team Vabbò Ci stanno un sacco di giocatori Andiamo in... In pallone Poi hanno fatto... Hanno fatto anche altre stagioni di Olly e Benji Ma vi dico solo che mia mamma sembra la prima siga di Olly e Benji So com'è E non ve la... Ve la dico solo per metà NANANANANANA Nicolo Diodati Matteo Locchi e Finesco Malanga quindi raga ci vediamo in prossimo video